Gli iscritti al Partito Democratico di Valdo della Lucania, oltre 140, prendono le distanze dai vertici locali e provinciali. Stufi di polemiche che non portano a nulla hanno inoltrato al segretario provinciale Landolfi una richiesta di convocazioni e assemblea. Gli iscritti si dicono stanchi del botte e risposta a distanza che in questi giorni sta animando il dibattito tra il consigliere comunale Nicola Botti ed Antonio Bruno, a cui il segretario provinciale Landolfi ha dato mandato di riorganizzare il partito dopo le frammentazioni registrate nelle ultime elezioni comunali. Il segretario provinciale, se non ottempererà nei prossimi sette giorni, seguirà autoconvocazione per l'elezione del nuovo segretario del Circolo, così come previsto dallo Statuto. Il PD di Vallo è allo sbaraglio. Il segretario cittadino Riccardo Ruocco, dopo la sconfitta elettorale, ha presentato le sue dimissioni. C'è dunque da riorganizzare il lavoro ed eleggere il nuovo segretario cittadino. Un partito, dice il dottore Aurelio Sica, da anni iscritto nel Partito Democratico, non è una porta aggirevole di un albergo e pertanto assistiamo a tutt'oggi ad un confronto che sembra più una querelle tra protagonismi personali. Il partito a Vallo è stato sempre un punto di riferimento per l'area del Cilento, un punto di incontro e confronto sulle varie problematiche territoriali. Dovrà continuare ad esserlo, cominciando dal rispetto delle procedure previste dallo Statuto, da parte del segretario provinciale Landolfi, che interpreta il suo ruolo come proprietà da gestire in modo del tutto personale. Ho l'impressione, dice Sica, che il tentativo di rinvio di tali responsabilità politiche possa essere anche messo in relazione a volontà di non esprimersi con posizioni chiare sul referendum del 4 dicembre. Nella richiesta di convocazione e assemblee agli iscritti del PD chiedono dunque di riorganizzare il circolo con tesseramento e congresso, una campagna referendaria per attività e determinazione.